La Toscana ha attivato tutte le misure necessarie per gestire la diffusione superiore al previsto del batterio NDM, New Delhi, metallo, beta, lattamasi, riscontrata in particolare negli ospedali della zona nord-ovest. Lo ha detto l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, spiegando che i pazienti che da emocoltura hanno mostrato l'infezione sono 64, mentre 546 sono risultati i portatori sani colonizzati dal superbatterio che colpisce soprattutto pazienti con comorbilità, fragili per esempio per terapie antibiotiche prolungate o per chemioterapia ed è molto resistente anche agli antibiotici. In Toscana, detto Saccardi, non esiste un allarme. Noi da molto tempo, da quando abbiamo cominciato ad osservare, grazie anche ad una rete di laboratori di microbiologia molto sviluppata, questo fenomeno in numeri pur contenuti ma superiori rispetto a quelli che normalmente ci aspettiamo, abbiamo messo in atto tutta una serie di misure di grande attività attenzione in modo da evitare che tutto questo si possa ripetere o replicare. Con un decreto di luglio la Regione ha formalizzato le indicazioni alle strutture sanitarie toscane che fissano le modalità di screening in ingresso al momento del ricovero in ospedale e le misure sul piano igienico dei pazienti colonizzati dal batterio che ha una mortalità del 40%. La Regione Toscana insieme ai gruppi di esperti ha messo in atto una campagna di sorveglianza, ha dato delle raccomandazioni e ha rifortificato le raccomandazioni che riguardano l'infection control che è una strategia appunto che riguarda l'eventuale isolamento del paziente colonizzato o affetto da una malattia potenzialmente contagiosa e questo parla non solo nel caso specifico di questo microorganismo e poi l'adozione comunque di quelle cosiddette precauzioni fondamentali che sono il lavaggio delle mani, l'utilizzo di dispositivi di protezione, l'utilizzo di dispositivi personali nel caso di assistenza per evitare la possibile trasmissione da un paziente all'altro. Le terapie contro il batterio NDM sono previste solo per i pazienti infetti mentre per i portatori non sono contemplate.